Che differenza ha trovato tra le vecchie annate di Brunello e le nuove annate, 2010 riserva e 2011? Molto interessante sono tutti per capire diversi, diversità, prima di 2000, poi dopo di 2000, erano differenti come per esempio la coltivazione, anche maniera di agulare, ma anche maniera di lavoro in cantina. Quelli sono molto interessanti, le diversità, però soprattutto sono tutti e crescono adesso. E' molto interessante, il vino manca fresche, manca acidità, è più elegante, colore non troppo scuro, non troppo maturo. Quelli sono vinoso, vinogità, anche bebibilità, ma soprattutto sempre posso sentire la grande caratteristica di San Giovese e di Brunello. Sono molto contento. Secondo lei cos'è che rende unico Montalcino? Unico? Perché Montalcino è unico nel mondo per il vino? Sì, 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 veramente sì. Per esempio oggi è molto interessante, degustato, però in tutto il mondo, per esempio, l'immagine di nebbioro e San Giovese è sempre immagine come Pinot Nero, Pinot Noir, però io ho sentito che San Giovese è sempre San Giovese. E questo per capire è molto importante. Ma quindi oggi è annata 2010, è grande annata, io ho potuto capire il gusto di San Giovese. Questo è vero, capito? Per esempio, ma adesso un po' tante analisi, confusione come impressione, come Pinot Nero, però secondo me devo capire il San Giovese e questo è molto importante. Sono felice di oggi degustare l'annata grande 2010. So che avete assaggiato vecchie annate di Brunello, ma anche riserva 2010 e Brunello 2011. Quali differenze avete trovato? Soprattutto l'importanza di assaggiare l'annata vecchia è per capire la storia di Brunello di Montalcino. Non è per il puntaggio del 66 e meno che il 2010, però per capire la storia di Brunello di Montalcino, di OCG, anche c'è un momento, cambia, tecnici o tutti, o mentalità del contadino, del proprietario. Questo è importante, per esempio, io sono periodista, giornalista, però per capire questo è più importante. Ogni annata c'è una diversità. Cosa può apprezzare un sommelier, un giornalista giapponese che viene nelle terre del Brunello? Penso che questa è molto benissima occasione per il ruolo del sommelier giapponese, per capire il territorio del produttore di diverse storie di cantina e anche il stile di ogni cantina. Grazie. 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 Grazie.